Ciao da Luci! Oggi facciamo insieme la mia coperta Fredrick. Allora la mia coperta Fredrick è semplicissima da fare e adatta anche alle principianti dell'uncinetto perché veramente è un punto facile, veloce, molto d'effetto, vedete qua è il punto quadretti, punto rettangolini, quadretti, lo chiamano in molti modi, comunque è veramente versatile. Questa copertina è da maschietto per via dei colori ma vi assicuro che fatta sulle sfumature del rosa può essere altrettanto bella. Allora vi dico subito con che filato ho realizzato questa copertina. Ho realizzato questa copertina con un filato della Ice Yarns sempre preso da Italia Artisan. Sapete che quando parlo di Ice tutti i miei filati vengono dallo shop Italia Artisan. E si chiama Dancing Baby. È un 100% premium acrilico. Quindi assolutamente, ecco io per la copertina bimbo, per le copertine bimbo preferisco usare l'acrilico in quanto è meno allergenico della lana. Ma assolutamente questo va a scelta, preferenza, gusti e idea. Perché poi ognuno è libero di usare il filato che vuole. E questo gomitolo è 100 grammi per 250 metri. Adesso vi dico prima le misure della copertina, poi vi dico quanto filato ho usato. Allora, la copertina io l'ho fatta partendo con 120 catenelle e la mia misura è il lato corto da 90 cm, ovviamente contando anche i giri di rifinitura, e il lato lungo 130 cm. Quindi comunque è una copertina per lettino, quindi non per carrottina o per culla, proprio per lettino. Molto bella, la rifinitura è semplicissima, ho fatto dei giri di maglia bassa tutt'attorno e poi degli archetti. Benissimo, allora vi dico subito quanto filato ho usato per la mia copertina. Quindi per la mia copertina ho usato 550 grammi di filato. Quindi per chi già acquista i filati ice sa che si vendono in lotti, allora è un lotto e un gomitolo e mezzo. Quindi vi serve poco più di un lotto per realizzare questa coperta. Certamente se decidete di farla per carrozzina, un lotto è più che sufficiente. Quindi andiamo subito alla realizzazione della nostra copertina. Ovviamente come sapete io registro sul campione perché mi trovo più comoda, quindi partiamo immediatamente. Facciamo che queste siano le mie 120 catenelle. Ne vado a fare altre tre, che sarà la mia prima maglia alta, e entro nella quinta dall'uncinetto. Quindi 1, 2, 3, 4, ed entro nella quinta. Vediamo se sono veramente nella quinta. 1, 2, 3, 4, 5, eccoci qua. Entro nella quinta e vado a fare tutto il primo giro di maglie alte. Ci rivediamo ovviamente al termine di questo giro. Al termine del primo giro, vedete, abbiamo la nostra prima fascia di maglie alte. A questo punto, ho cambiato uncinetto perché sull'altro non scorreva bene, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro, sulla stessa maglia alta dalla quale abbiamo fatto la catenella, ci inseriamo e facciamo la maglia bassa, dopodiché 3 catenelle, contiamo 1, 2, 3 maglie alte, e quindi tra la terza e la quarta ci inseriamo nel mezzo e facciamo una maglia bassa, in questo modo. Di nuovo 3 catenelle, contiamo 1, 2, 3 maglie alte, quindi tra la terza e la quarta ci infiliamo con una maglia bassa. E quindi facciamo così per tutto il giro, sempre 3 catenelle, saltiamo 3 maglie alte, e in mezzo, quindi non sulla terza maglia alta, ma in mezzo tra la terza e la quarta maglia alta contate, andiamo a fare la maglia bassa, di nuovo 1, 2, 3 catenelle, contiamo 3, in mezzo tra la terza e la quarta maglia bassa, 1, 2, 3, in mezzo di nuovo tra la terza e la quarta maglia bassa, scusate ho caricato per fare la maglia alta, ogni tanto mi confondo, quando faccio i punti misti mi confondo spesso, ecco qua ce l'ho fatta, di nuovo 1, 2, 3, saltiamo 3 maglie, ecco qua, in mezzo, voilà, ora ce ne rimangono 4, e infatti facciamo 1, 2, 3, saltiamo le 3, e andiamo a fissarci sull'ultima maglia alta, con una maglia bassa, in questo modo, quindi questo è il secondo giro. Ora non faremo altro che alternare questi due giri, vedete, è semplicissimo, quindi adesso cosa facciamo? facciamo le 3 catonelle, che sarà la nostra prima maglia alta, voltiamo il lavoro, e andiamo a lavorare all'interno degli archetti da 3 fatti, quindi in ogni archetto, lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2, e 3, saltiamo nel prossimo archetto, e di nuovo, 1, 2, e 3 maglie alte, prossimo archetto, di nuovo, 1, 2, e 3 maglie alte, prossimo archetto, 1, 2, e 3 maglie alte, e 3 maglie alte, di nuovo, prossimo archetto, 1, 2, 3 maglie alte, ultimo archetto, 3 maglie alte, sempre all'interno dell'archetto, quindi 2, e 3, ed andiamo a fare una maglia alta, sulla maglia bassa del giro sottostante, quindi ci inseriamo sulla maglia bassa, e facciamo la maglia alta, quindi vedete, solo alla fine e all'inizio, avremo la maglia alta, per partire sopra alla maglia bassa sottostante, e poi lavoriamo sempre 3 maglie, in ogni archetto, in questo modo, quindi vi faccio rivedere un attimo, il giro numero 2, perché questo è sempre il giro numero 1, quindi una catenella, voltiamo, facciamo la maglia bassa proprio nella primissima maglia, dopodiché 3 catenelle, e adesso, vedete, si formano questi forellini, perché le maglie vengono tenute larghe dalla maglia bassa sottostante, e proprio qua noi andremo a fare la nostra maglia bassa, in questo modo, quindi non dobbiamo neanche più contare le maglie, perché abbiamo gli spazi che separano le 3 maglie alte, quindi 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, voilà, maglia bassa, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, di nuovo, 3 catenelle, e la maglia bassa la andiamo a fermare sulla terza catenella, quindi sull'ultima maglia alta, saltate le 3, c'è l'ultimissima, ecco qua, terza catenella, ci andiamo a fissare con la maglia bassa, come vedete, i giri sono facilissimi, si ripete sempre il primo e il secondo giro, il primo e il secondo giro, per tutta la vostra altezza, ora io vado avanti un pezzettino, per dare un po' di forma, ecco, al mio campione, dopodiché vi faccio vedere direttamente la rifinitura, come vedete ho fatto il mio pezzettino, vedete come rimane bello dritto, non arrotola, i margini sono molto compatti, molto lineare come punto, ecco, a questo punto io vi faccio vedere la rifinitura, perché la copertina, lavorare sulla copertina sarebbe stato piuttosto impegnativo, quindi è ovvio che vi faccio la pezzuola, e poi voi riportate le misure che io vi ho dato della copertina, allora, quando arriviamo all'ultimo giro, lo consideriamo il primo come ultimo giro, quindi il giro con le maglie alte, quindi avremo lo stesso giro sia sotto che sopra maglie alte, a questo punto cosa facciamo? facciamo una catenella, e ci giriamo lateralmente in questo modo, andiamo a fare due maglie basse all'interno, quindi lateralmente alla maglia alta, e ignoriamo totalmente il punto con la maglia bassa e catenelle, quindi entriamo nella prossima maglia alta e andiamo a fare altre due maglie basse, andiamo nella prossima, lateralmente, ecco, alla prossima maglia alta e andiamo a fare due maglie basse, quindi di nuovo lateralmente alla prossima maglia alta andiamo a fare due maglie basse, A questo punto siamo arrivati a dover fare l'angolo, quindi in questa stessa maglia abbiamo fatto la nostra maglia bassa, quindi la seconda maglia bassa all'interno della maglia alta, facciamo una catenella, ci rigiriamo così, facciamo un'altra maglia bassa ed ora andiamo a lavorare una maglia bassa su ogni maglia alta sottostante. Quindi tante quante maglie alte ci sono, tante maglie basse faremo sopra, quindi le facciamo insieme perché tanto è veramente piccolina la mia pezzuola, per farvi vedere questa copertina è più il punto e la rifinitura, perché poi alla fine la lavorazione è velocissima e la coperta, come sapete, è tutta dritta, quindi non è che devo farvi vedere variazioni o cose varie, quindi la pezzuola è più che sufficiente. Aspettate che mi sono infilata male, facciamo questo giro di maglie basse, mi raccomando mantenete il numero in questo modo, ecco qui, ecco qui. Quindi arriviamo di nuovo all'angolo, ci stiamo arrivando. In questo modo, vedete anche il filato è molto compatto, poi io lo sto lavorando con un 4,5. Ecco qui, ecco sono entrata praticamente sull'ultima maglia alta, ora voltiamo il lavoro, facciamo una catenella che sarà l'angolo e andiamo a fare lateralmente ovviamente le nostre due maglie alte. In questo modo, saltiamo ovviamente la maglia bassa del secondo giro e andiamo direttamente sulla prossima, quindi lateralmente alla prossima maglia alta. Saltiamo qui e andiamo lateralmente alla prossima maglia alta. Perché vi faccio saltare quello? Perché se no vi viene, vedete che viene bello dritto, bello compatto, se no fa quel bruttissimo effetto ondulato. La copertina, a me personalmente non piace, quindi io vi suggerisco di fare così. Quindi siamo arrivati alle due maglie basse all'interno della maglia alta, catenella, giriamo e ne facciamo ancora una, in questo modo. E andiamo a fare di nuovo una maglia bassa sopra ogni maglia alta sottostante, quindi andiamo tutto attorno fino al termine del nostro giro. Quindi facendo sempre una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nell'angolo, in questo modo. Vediamo se ci arrivo, sì, vado veloce, ci arrivo senza stoppare la registrazione, tanto è una cosa veloce. Vediamo se ce la facciamo. Ecco qua. Così. Così vi faccio vedere già tutto insieme. Se vi è comodo nella catenella d'angolo potete mettere un marca punti perché dovremmo fare almeno due o tre giri. Quindi sono arrivata all'ultima catenella, volto il lavoro, anzi no, sono arrivata catenella, esatto, volto il lavoro e mi fisso con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa. Scusate, è scuro e faccio fatica anche a vederlo. Vediamo se ce la faccio. No, non sono entrata bene, scusate. Ecco qua, entriamo qui nella primissima. Voilà. Ripeto, se vi è più comodo vi consiglio di mettere un marca punti nella catenella perché andremo a fare più giri. Quindi adesso noi abbiamo fissato sulla prima, faccio una catenella ed ora vado a fare semplicemente un altro giro di maglie basse sulle maglie basse che abbiamo già fatto del giro precedente. In questo modo, vedete che non arriccia, non allarga, non arriccia e la copertina rimarrà compatta. Vi consiglio proprio questo metodo per non fare arricciare la copertina. Quindi io sono arrivata, vedete, questa è la catenella centrale, quella che abbiamo fatto tra un lato e l'altro. Quindi in questa centrale faccio la maglia bassa, la catenella e la maglia bassa. Quindi ho fatto l'angolo in questo modo. Quindi abbiamo sempre qua la nostra catenella che è l'angolo e rifacciamo semplicemente su ogni maglia bassa. Quindi giriamo dall'altro lato e andiamo avanti a girare circolarmente. Vedete che viene il bel angolo, non arriccia ed è veramente molto bello. Quindi io vado avanti facendo questo giro e poi la finiamo insieme. Allora, per sicurezza vi faccio vedere nuovamente l'angolo. Quindi io sono arrivata alla maglia prima della catenella. Vedete che qua c'è proprio il forellino della catenella? Quindi io entro nella catenella e faccio una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, tutto su quel forellino creato dalla catenella. Dopodiché volto il lavoro, quindi vedete, volto l'angolo, diciamo, e vado avanti nuovamente a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. In questo modo. Sono già arrivata al prossimo angolo, quindi ve lo faccio vedere. Sono alla maglia prima dell'angolo, questa è la catenella dell'angolo, ci entro e faccio maglia bassa. Scusate, ho detto maglia alta prima, è maglia bassa. È catenella e maglia bassa. Se vi fa comodo mettete il marca punti per riconoscere qual è l'angolino. Nuovamente, volto il lavoro e vado avanti a fare una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante. In questo modo. Così. Quindi proseguo per tutti i miei lati fino a chiudere ovviamente con una maglia bassissima dopo l'ultimo angolo. Ecco, vedete che rimane molto dritta la copertina, molto compatta e non ondula. Perché a me non piace molto quando le copertine, insomma, hanno i bordi un po' ondulati. Ci vediamo nuovamente per l'ultimissimo giro di rifinitura. Arrivato a questo punto, vedrete che ovviamente prima di chiudere con una maglia bassissima avete dovuto fare una maglia bassa subito dopo l'angolo, perché ovviamente ci siamo spostati dall'angolo. Allora cosa facciamo? Voltiamo il lavoro. e camminiamo dentro l'angolo con una maglia bassissima. Rivoltiamo il lavoro. Scusate, facciamo almeno una catenella così non si annoda il lavoro. Entriamo nell'angolo e facciamo una maglia bassa. Dopodiché, uno, due, tre, quattro, cinque catenelle. Saltiamo, uno, due, tre, quattro, cinque catenelle, uno, due, tre, quattro e cinque. Adesso io salterò direttamente nell'angolo, perché ovviamente la mia è una pezzuola. Però anche voi, se dovesse capitare che avete una maglia in più o una in meno, saltate direttamente nell'angolo in questo modo. Maglia bassa, catenella, maglia bassa. Fate comunque questo nell'angolo perché così vi fa bene la curva. Di nuovo, cinque catenelle, uno, due, tre, quattro, cinque. Saltate cinque maglie sottostanti, quindi una, due, tre, quattro e entrate nella quinta. In questo modo. Di nuovo, cinque catenelle, una, due, tre, quattro e cinque. Saltate, una, due, tre, quattro e entrate nella quinta. Maglia alta. Di nuovo, stessa cosa. Ormai la finiamo insieme perché tanto è velocissima. Un, due, tre, quattro e entrate nella quinta. Di nuovo, cinque catenelle. Uno, due, tre, quattro e entriamo nella quinta. E questa volta, invece, sono giusta. Quindi faccio cinque catenelle. Cinque. E entro nel mio angolo. Ovviamente, se voi avrete messo un marca punti, sarete sicuri di essere nell'angolo. Quindi faccio la mia catenella e faccio di nuovo la maglia bassa. Per ripartire, vedete come curva bene l'angolo senza tirare? Perché ovviamente abbiamo fatto un angolino. Di nuovo, io vado a fare cinque catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque. Tenete conto che è un campione. Quindi magari non mi tornano bene le maglie. Due, tre, quattro e cinque. Quindi mi attacco nel mezzo. In questo modo. Abbiamo solo un archetto da questa parte. Quindi so che ne faccio cinque. Avendolo fatto dall'altro lato. E mi vado ad agganciare al centro dell'angolo, dove farò una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, sempre sulla catenella dell'angolo. Di nuovo, cinque. Due, tre, quattro, cinque. Di nuovo, ne salto cinque. Un, due, tre, quattro. Entro nella quinta. Uno, due, tre, quattro, cinque. Un, due, tre, quattro. Entro nella quinta. Di nuovo. Un, due, tre, quattro, cinque. Un, due, tre, quattro. Sulla quinta. Dopodiché faccio cinque catenelle. Un, due, tre, quattro e cinque. E mi attacco, ah no, ecco, faccio la, scusate, maglia bassa all'interno dell'angolo. Una catenella e con una maglia bassissima mi attacco sull'ultima maglia bassa. Allora, qua adesso io ho tirato tutto e quindi un po' si alza. Però avete visto sulla copertina originale che non tira niente. Quindi andiamo a tagliare il nostro filo e la nostra copertina, vedete? Sì, effettivamente l'ho tirato un pochino, ma è così. Viene benissimo, bella, vedete? Con i nostri archettini, adesso vi riprendo l'originale così la vedete bene, vedete che non tira. Anche perché una volta che poi la mettete in, al fissaggio, vedete? Guardate, gli angoli non tirano assolutamente. Vedete, è molto bella, molto morbida, soffice, caldissima e i vostri bimbi qua ci staranno veramente al calduccio. Io ora vi saluto, vi invito ad andare a visitare lo Shop Italia Artisan per trovare questo filato e tantissimi altri filati molto molto belli. Vi lascio nelle info il link sia diretto al filato che allo Shop Italia Artisan. Vi lascio anche il link del gruppo Facebook Creando con Lucia e Franci. Venite a trovarmi per farmi vedere tutti i vostri lavori o anche solo per farmi un saluto. Ora vi mando un grosso abbraccio. Ciao ciao da Lucia. A presto, ciao! Ciao ciao!